ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che appena arrivato nelle sale italiane uno di quei film che aveva messo tra quelli più attesi per il mese di gennaio che è dragon trainer 3 il mondo nascosto ne parlo come sempre con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio si in drago il mondo nascosto capitolo numero 3 di questa bella saga nordica che insomma racconta dell'amicizia di un umano con un drago ma non solo esatto perché questo film è una perfetta chiusura di una trilogia inaspettata il primo film uscì nel 2010 dopo quattro anni uscì il secondo e adesso siamo nel 2019 il terzo e non si pensò che sarebbe stato un così grande successo e anche al terzo capitolo riesce a mantenere un ritmo incredibile un'ironia sempre molto sul pezzo diciamo un'animazione di grandissimo livello e un un altro elemento che non non calo ovvero una serie di messaggi molto importanti nel rapporto tra le persone nel rapporto in questo caso tra uomini e draghi infatti la la pace tra uomini e draghi è stata è stata ormai suggellata vivono in perfetta armonia in un quello che possiamo definire un ecossistema un bioma perfetto sembrano quasi talmente c'è così tanta intesa che sembrano quasi uno in simbiosi dell'altro ogni mondo quello umano e quello dei draghi contamina l'altro e sembra che la pace possa durare per sempre ma purtroppo non non è così perché una minaccia arriva da da lontano esattamente dal dall'inghilterra c'è un nuovo nemico che non solo vuole conquistare il villaggio di icap ma anche uccidere tutti i draghi che ci sono in quelle in quelle terre allora cosa cosa si può fare cercare una famigerata terra promessa dove nascondersi da qua il titolo il mondo nascosto e continuare a vivere in in pace ce la faranno i nostri amici beh questa risposta non non ve la dico perché dovete scoprire il film ma pierpaolo ti dico che è proprio una bella trilogia bellissima animazione bellissimo lavoro della dream works animation e bene bene bello perché effettivamente questo è stato un filmettino che ha sorpreso un po tutti quanti e ha mantenuto appunto questa sua caratteristica di sapersi innovare mettere un tassello dopo l'altro stavo pensando i personaggi che arrivano in questa nuova avventura come sono come spessore allora diciamo che come nuovo vero personaggio c'è un drago femmina che farà perdere tutta bianca come si viste nel tre che fa perdere la testa ha sdentato però un elemento che non fa da comparsa in realtà è un personaggio che cresce gradualmente nel nel film e poi nel finale ha un bra un ruolo fondamentale quello che crea è una sorta di parallelismo di famiglie tra draghi e uomini e esseri umani che lo trovo assolutamente concedimi il termine visti i tempi educativo per il mondo in cui viviamo e c'è secondo me anche sotto un discorso di integrazione che trovo perfetto per il pubblico a cui è diretto questo film che ovviamente sono i bambini gli adolescenti ma credo che un adulto secondo me farebbe bene a vederlo e così a sviscerare a capire il sottotesto che che c'è quindi in realtà di vero personaggio ce n'è uno solo poi c'è il nemico appunto che attacca icap ma non è particolarmente significativo è un nemico classico scuro molto semplice lineare invece il questo nuovo drago tutto tutto bianco al suo al suo spessore ecco e come sono evoluti poi invece personaggi classici dove da sdentato naturalmente a icap e il resto della banda allora sono diventati anzitutto molto più grandi nel senso che sono quasi adulti icap è ormai il re del suo villaggio sdentato invece diventa a tutti gli effetti il comandante il capo a suo modo il re dei draghi e tutta la compagnia nerd di icap che sembra proprio venire fuori da un gioco di ruolo di dungeons and dragon anche loro sono adulti ma mantengono quelle caratteristiche e la coppia icap astrid è un sono quasi marito e moglie ecco perché si sono cresciuti ormai il loro amore è dichiarato hanno una grande intesa quindi diciamo che un'evoluzione positiva di un rapporto di fidanzamento ecco che si evolve in quello che tutti gli effetti è un matrimonio sia dal punto di vista di umano che dal punto di vista animale del mondo dei draghi bene si titola dragon trainer il terzo capitolo della saga il mondo nascosto naturalmente la saga ricordiamo tratta da una trilogia di libri firmati da cressida cowell come destrarre un drago appunto vedremo se poi anzi sicuramente il successo visto che il film sta ottenendo veramente un ha fatto un bel esordio il botteghino e quindi un quarto capitolo salterà fuori sicuramente noi lo consigliamo assolutamente proprio un bel film mi riallaccio prima di chiudere a quello che hai detto tu forse questa trilogia dovrebbe rimanere così chiuderla così perché è mi sento di dire perfetta ma magari al posto che fare un quarto capitolo dedicarsi e fare così famosi che vanno tanto di moda spin off perché in realtà quella ci sono diversi personaggi che meriterebbero oltre a quelli principali uno sviluppo in evoluzione e se il risultato è come questo benvengano film del genere per questa recensione è tutto grazie per paolo ciao a tutti e mi raccomando iscrivetevi al canale youtube di cine tv l'andia